E' finalmente in fase di ultimazione il progetto esecutivo per la realizzazione della variante alla regionale 71 tra Calbenzano e Santa Mama. L'avvio della procedura di gara è previsto entro la fine dell'anno. Il progetto dei lavori di costruzione del secondo lotto del tratto della variante tra Calbenzano e Santa Mama riguarda un tratto di 1,82 km. Si estende dalla sezione finale della variante di Calbenzano a quella iniziale della successiva variante di Santa Mama, il primo lotto. L'intervento ha un costo complessivo di oltre 5 milioni di euro interamente carico della regione toscana. L'avvio dei lavori si prevede tra settembre e dicembre 2018, il termine nella primavera 2020. Una zona tormentata quella però con questo intervento, con questa piccola variante di circa 2 km andiamo a ricucire la 71 nel tratto tra la variante di Calbenzano realizzata negli anni scorsi e quella di Santa Mama che finalmente verrà aperta nei prossimi giorni. Si tratta di un intervento che ovviamente migliorerà la percorribilità ma soprattutto ha rivolto a creare maggiore sicurezza stradale perché siamo in un tratto che è stato purtroppo scenario di vari incidenti stradali che ha provocato anche morti e feriti. Vorrei sottolineare l'importanza di questa realizzazione perché supera un altro passaggio a livello, un passaggio a livello tra l'altro assai pericoloso quello per l'ingresso e per l'uscita a Santa Mama nella parte sud e alla dimostrazione come anche in momenti difficili per le casse pubbliche di tutti gli enti continuiamo ad investire per migliorare in questo caso un'infrastruttura che è l'unica direttrice che porta in Casentino e che consente dal Casentino di venire verso il capoluogo di Arezzo. Coppio in questi giorni la provincia di Arezzo inaugurerà il primo lotto della variante per un costo totale di oltre 8 milioni di cui 7 di finanziamento regionale e il resto degli enti locali. Siamo, come dicevo prima, fra virgolette lieti di annunciare la fine dei lavori della variante di Santa Mama dopo anni che sono passati purtroppo creando disagi anche ai cittadini oltre che a noi stessi perché comunque quando un'opera si inizia e viene portata avanti per così tanto tempo prima di vedere la sua fine insomma non è mai buona cosa. Quindi nei prossimi giorni, in questi giorni c'è stato un semaforo perché dovevano essere finiti gli ultimi lavori complementari, nei prossimi giorni verrà appunto diciamo domattina forse giovedì e venerdì diciamo verrà riaperta definitivamente la variante e quindi siamo lieti appunto di annunciare la fine di questa opera. Con la chiusura del passaggio livello a sud di Santa Mama si viene un po' a penalizzare il burgo di Santa Mama a cui ovviamente come sindaco io devo fare un po' riferimento.